Fino al giorno in cui la febubbia violenza, il fuoco attaccò gli altri, rompendo l'armonia e la pace, creando un nuovo conflitto. Non pensi sia giunto il momento che qualcuno con carisma e autorità governi queste terre? Sono Magmion e in nome della tribù del fuoco reclamo il trono dell'isola di Gorm! Arachno il crudele, con le sue sei gambe, può percorrere molto terreno in un batter d'occhio. Sei sicuro che non riuscirà a raggiungerti? Sciogliere la pietra non è troppo rischioso! Rischioso? I miei avversari rischiano quando mi affrontano! Guardiano Urlante! Oltre alla sua voce vellutata, possiede spine appuntite! Un'abbraccia da lui? È l'ultima cosa che vorresti avere! Dai, sono un abbraccino! Mi sento affettuoso! Sono una casa! Sapete che il fuoco non ha effetto su di me, giusto? I giorni della sua fortuna sono finiti! È il mio turno ora! Il suo urlo ha distrutto anche la scavola! Il primo concorrente! Maglio è infuocato! Come potete vedere è un concorrente di fuoco! Stai calmo, vecchio saggio! Devi controllare la tua pressione sanguigna! Maglio è infuocato! Non stai facendo uno dei tuoi vecchi trucchi, vero? Come cosa? Riscaldare il centro del vulcano con la mia pioggia di fuoco? Quella sarebbe stata una bella idea! Ma no! Non c'è niente da vedere qui!